Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet Books, anche se raffreddata, oggi è il 17 di dicembre ed è martedì e voi la starete guardando giovedì questa reaction, quindi non so se quando voi state guardando sono migliorata o peggiorata, ma se vi sentite in queste condizioni è perché appunto sono un po' raffreddata, ma ci tenevo comunque a darvi a fare questa reaction che è quella della 2x12, un altro episodio iconico che è stato scelto sempre in collaborazione con la mia amica Carol di Carol Italia, link della pagina Facebook in descrizione, se no già comunque la prossima settimana si salterà perché comunque è la settimana di Natale, quindi non ci saranno reaction, mi dispiaceva insomma lasciarvi senza reaction questa settimana, questo giovedì insomma, e quindi mi sono detto dai Sara tanto hai preso l'aspirina, hai preso le medicine, sei a posto, ce la puoi fare, comunque poi nelle reaction non si parla poi neanche tanto, quindi mi sono detto dai che ce la facciamo, l'ultima reaction che è andata online è quella di martedì che era quella della 2x07, ovvero il mid-season della seconda stagione, il primo mid-season di questa serie tv possiamo dire, qui abbiamo appunto, sono successe anche altre cose, infatti, scusatemi, ho deciso che farò un riassunto delle puntate diciamo precedenti prima di questa qui, nel mentre dopo quello che è successo nella 2x07 sono successe altre cose, abbiamo scoperto che c'è un gruppo di diciamo chiamiamoli saccheggiatori, che volevano sapere dove era la fattoria di Hershel per potersela prendere, hanno preso in ostaggio uno di questi, anche se tecnicamente è preso in ostaggio barra salvato, e stavano decidendo che cosa farne, se lasciarlo andare o se giustiziarlo, perché il rischio comunque c'è sempre che possa tornare con i suoi uomini e prendersi la fattoria, quindi diciamo che qui, già in queste puntate comincia, il nemico comincia a diventare l'essere umano più che il morto che cammina, vediamo appunto Rick e Shane ormai ai ferri corti, arrivano anche a pestarsi a un certo punto, nella puntata in cui decidono di liberare Randall, ma poi lui ammette di conoscere, cioè confessa di conoscere Maggie, che andava a scuola con lei, ma non sapeva neanche, lui richiedeva, ma io non so neanche dove aveva, tantomeno mi si filava neanche di striscio, ma appunto c'era questo dubbio, quindi lo riportano alla fattoria, e c'è una lotta appunto, loro si pestano, perché comunque la loro spaccatura ormai è inevitabile, Rick ha scoperto di Lori e Shane, e tutto quanto, e diciamo fino a qua ci siamo conclusi con la morte di Dale, che come vi ho accennato nella 207, Geoffrey DeMann ha deciso di lasciare la sera nel momento in cui se n'è andato Frank Darabont, suo amico e grande collaboratore, e Dale è morto, ucciso da uno zombie che Carla non è riuscito ad abbattere, ed è, viene, praticamente lo zombie gli apre lo stomaco e Daryl gli dà il colpo di grazia al posto di Rick, e noi da qui partiamo adesso con la 2x012, che anche qua è una puntata da Cardiopalma, dopo questo riassumo delle puntate precedenti, bando alle ciance, cominciamo con questa ultima reaction, dedicata alla seconda stagione di The Walking Dead, ok cominciamo, qui vediamo Shane, Andrea con Daryl e Lady Dog, che vanno in perlustrazione per ripulire la zona intorno alla fattoria, da Isobi, e qui c'è il funerale di Dale, oh mamma, eh, Dale era la coscienza di tutti, madonna Rick, però come facevi i discorsi Rick, nessuno più, guarda qui Daryl come guarda Jack Carroll, vero, il modo migliore per onorarlo è riformare il gruppo, mettere da parte le nostre differenze e restare uniti, scegli la guarda come per dire sti cazzi, ah, 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 ah che legnate, che legnate, non c'è bisogno di infierire, non è colpa loro, stanno pigliando da calci uno zombie, ma non è colpa loro alla fine, cioè alla fine gli zombie alla fine della fiera hanno poca colpa di quello che fanno, che ci sono io vicino a te e non ti succederà niente, ma non posso controllarti tutto il giorno, solo tu puoi farlo, Carl prendila, non toccherà più una pistola, non è possibile Carl, ok? Ridalla a Dale, ecco, qui diciamo che già Carl, a me che era un bambino, quindi non è che, devo dire che Carl è un personaggio che ha avuto anche lui un grande sviluppo andando avanti, ha avuto anche lui insomma i suoi momenti, no, infatti io e la mia amica nera lo chiamiamo il bulletto, insomma i suoi momenti la testa di cazzo le ha avuti anche lui, ma tutti qua, le hanno avuti tutti, nel bene o nel male, almeno una volta o due, nella vita sono state delle teste di cazzo, adesso non ne parliamo, in questa decima stagione non ne parliamo, non decidermi, ci torno io, T-Dog quanto ci manca anche tu, ci sono tanti personaggi, che io mi domando come sarebbero stati adesso nella nuova stagione, cioè T-Dog, lo sviluppo che avrebbero avuto, è un vero peccato comunque, che non ci sono arrivati tutti, io per esempio adesso, come ho detto anche nell'altra reaction, io lo vorrei Shane adesso, che dessi una svegliata sti mente cattie per far qualcosa, comunque questa scena è proprio bella, c'è questo confronto che stanno avendo Shane e Lori, e ci voleva, qualsiasi cosa sia successa, qualsiasi cosa pensassimo che ci fosse, e non solo tu, ma... cioè guardate Shane, che ha John Brent al che mostro che sei, quanto posso amarti, lei gli sta chiedendo scusa, è giusto, va bene, c'è stato però Shane, con questo discorso, gli si è accesa una lampadina, una luce diversa, lei ti ha chiesto scusa, ed è giusto, va bene, questa scena è proprio bellissima, ecco qui comincia, diciamo la, la bromance, in questa posizione si può dire, che comincia proprio la bromance, tra Rick e Daryl, quanto sei bello Daryl, quanto eri figo, io adesso vorrei una sala di mezzo, tra questo Daryl, e il Daryl più riflessivo, per favore datemelo, nella seconda metà della decima, caro, perché è stato lui ad abbattere Daryl, è stato Daryl come vi ho detto, dirò a Lori di parlarne, senti penso, che voglia parlare con suo padre, vabbè quello si è, risolvere la faccenda di Randall adesso, amico deve aspettare, ok? qui Shane non ha ragionato sbagliato, è il mio dovere Shane, sei prima un padre però Rick, vuoi andare io con Daryl? no! 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 sì! me ne immaginate, Daryl e Shane insieme, però è un peccato, avrei voluto interagire, vederli interagire di più, basta cosa da bambini, oh, che bello, vorrei che vivessi un'infanzia come la mia, ma non è possibile, eh no, non in un mondo così, bisogna crescere prima, anch'io morirò, eh, ma invece è morto prima lui di te, puttani, ci arriveremo, il massimo che possiamo fare, è ritardare quel momento finché ci riusciamo, porca trota, che bello, che bella frase, vorrei poterti dire qualcosa di meglio, qualcosa che sia molto più profondo, no, sei profondo abbastanza Rick, mio padre era bravo in questo, anche tu sei bravo, sai fare dei discorsi epici, mi manca i miei tuoi discorsi, torna, ti prego, prendila, porca, che bella, che bella scena, qui, vediamo proprio come Rick stia, accettando il fatto che Carl, deve crescere prima del tempo, non può più trattarlo da bambino, ma deve trattarlo, da uomo, se vuole farlo sopravvivere in questo mondo, che bello, che meraviglia, appunto abbiamo Shane che è entrato, dal prigioniero, forse, tu pensi voglia ucciderlo, babba, poveraccio però, vabbè, da una parte dici poveraccio sto ragazzino, ma dall'altra c'è, i suoi amici hanno cercato di uccidere i nostri, qui, io ho sempre pensato una cosa, qui non è questione, di buoni e cattivi, aspettate un attimo, ci sto pensando adesso nella decima stagione, è un discorso che mi porto dietro appunto, da quando è iniziata la nonna, nella decima stagione, dalla frase che ha detto Negan, che ha detto che quello che facevano loro, era proteggere quello che avevano, qui non è questione di buoni e cattivi, come dice mia madre, mia madre per lei sono i cattivi, i nostri sono i buoni, e quelli che ammazzano i nostri sono i cattivi, giustamente, ci sta anche, ma non è proprio questione anche di buoni e cattivi, è questione di sopravvivenza, per quanto mi riguarda, ci sono persone che sopravvivono sulle spalle degli altri, come Negan, che rubava le cose degli altri, per far sopravvivere la sua gente, e sopravvivere anche soprattutto se stesso, persone come il governatore, che tenevano in scacco col proprio charm, le altre persone, facendogli fare quello che voleva, imponendo a loro la sua mentalità, un po' perversa, un po' psicotica, senza cosa sta facendo Alfa, sopravvive camminando con i morti, e plagiando le persone, perché facciano quello che fa lei, cercando di piegare, quelli che secondo loro, sono sbagliati, cioè i nostri, e i nostri invece sopravvivono, al meglio delle loro forze, anche se in questo momento, stanno facendo una marea di cagate, quindi non è questione sempre di buoni e cattivi, perché anche i nostri hanno superato tanti limiti, è questione di sopravvivenza, e già questa stagione, ce lo stava insegnando a mio parere, chiuso il discorso filosofico, che mi ha già costato la trachea, vediamo uno Shane in crisi mistica, accompagnata da una leggera, leggerissima psicologia, proprio un filino, giusto un filino squilibrato qui Shane, madonna John Brent, però quanto posso amarti, madonna, madonna, dio mio, un filino squilibrato, gli ha puntato la pistola alla testa, no, 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 non lo fai, ma io lo so, sì, sì, va bene, va bene, lui ha in mente qualcosa di più diabolico, che Mr. Grey, levati, non deve più essere così violetto, siamo dalla stessa parte, eh sì, che dici, ti piacerà stare con noi, ci sono attimi di follia, non ci, non sono mai, più comparsi così qua, ma io ho sempre avuto sospetto che fossero, dei salvatori, secondo me erano i salvatori, per come agiscano, per come cercavano le informazioni, secondo me erano i salvatori, il preludio, può essere, non è mai stato capito, non è mai stato spiegato, ecco, l'ho ammazzato, gli ho spezzato il collo, si è sentito il crack da qui, penso che l'avete sentito anche voi, per me erano i salvatori, erano il principio dei salvatori, può essere, non è mai stato spiegato, perché non sono più comparsi questi, ecco qui scena, ma non è che botta, ha dato una testata contro l'albero, per farsi male, ma tu non stai bene, madonna figlio mio, che dolore, ecco qui, lui stava già prendendo il piano, forma il suo piano, per, per uccidere Rick, era quello che lui voleva fare, per questo era così anche, scalmanato, c'è bisogno di ritracciarlo, ok, è andato da quella parte, dividiamoci, lo cerchiamo e basta, e la finiamo qui, quel ragazzo peserà 50 chili bagnato, vuoi dirci che ha avuto la meglio su di te, non so sul mano, ecco qui, lui Daryl aveva, aveva occhio, aveva già capito, che c'era qualcosa che non andava, anche perché lui è stato l'unico, insieme a Daryl, ad aver capito, che lo aveva ucciso Otis, Daryl sembrava l'ultimo dei fessi, ma in realtà ci sapeva, e adesso perché, adesso me l'hanno reso così, così passivo, perché, si vede che soffro per sta cosa, soffro anche per il raffreddore oggi, no ragazzi non potete capire, sono in apnea, non respiro, sono per voi, spero che apprezzate lo sforzo, perché sono per voi, oddio, madonna, sei brutto, madonna, mi è mancato, ma no Daryl, dai, aiuto, aiuto, no che ansia, è lo zombie di Landal, fuocca la bia, dai, dai, madonna, 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 e vai di accetta, bravo Glenn, 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 babbio, quando sei brutto, però non ho fatti male, in questa stagione, bravo, un 8.8, te lo do Glenn, per il collo spezzato, com'è possibile? Allora, metto in pausa, perché questa cosa, verrà chiarita, nell'ultimo episodio, di cui non farò la reaction, perché non ce la faccio, qui, si capisce, si comincia a comprendere, ciò che Jenner, ha detto a Rick, ma che Rick, non ha mai rivelato, agli altri, ovvero, che sono tutti infetti, che qualunque cosa, riporti in vite morti, li ha contagiati tutti, e quindi, non è, necessariamente, il morso, a trasformarti, ma, qui appunto, c'è, parecchio, Romero, che è anche dei film di Romero, se, eh, li conoscete, basta che muori, e, diventi, eh, uno zombie, quindi questo è, un grande omaggio, secondo me, anche a, a Romero, quindi, questa cosa, viene chiarita, proprio nell'ultimo episodio, di questa stagione, eh, che appunto, ciò che ha detto Jenner, a Rick, alla fine della prima, ci tenevo appunto a precisarlo, visto che, non faremo, la reaction, dell'ultimo episodio, mi spiace, ansia, livelli, omicidi, ragazzi, poi, madonna, questa scena, loro due, con la luna, e le nuvole, sulla collina, è Romero, da tutti i pori, è un, un trasudo a Romero, da ogni frame, questa scena, foca, la bindella, madonna, che scena, ragazzi, sto male, per chiamarlo, per quello che è, oh, mi c'è Dio, eh, sì, madonna, Shane, cosa avevi nella testa, che se torni alla, non hai idea, di cosa posso sopportare, di quello con cui convivo, puoi parlare, di cosa posso fare, tu cosa puoi fare, eccomi qua, madonna, che scena, estrai la pistola, porco Giuda, no, non lo farò, no ragazzi, sto male, guarda la mia mano, è proprio tutta una divergenza, di vedute, tra loro due, madonna, oh, sto male, lo ribadisco, cosa mi è venuto in mente a me, io sono una masochista, e ci butteremo tutto alle spalle, eh, qui Shane, già un po' ci stava credendo, anche se, c'è un filino, una faccia da, madonna, oddio, ha pugnalato Shane, madonna, ma, sto male, madonna, maronna, che scena, oddio, ma, 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 madonna, sto male, ragazzi, madonna, Rick, come sta, mamma, devo dire, io l'ho vista anche in originale, questa puntata, Andrew Lincoln, è qualcosa di spettacolare, mamma, c'è madonna, che roba, recuperatela, sta puntata, ragazzi, se mi spiace, non potrei far vedere quello che sto vedendo io, ma, madonna, sto malissimo, ho i brividi, giuro, ho i brividi, non che il cristallianzante, non sia un bravo doppio trono, un doppio trono spettacolare, ma, guardateli in lingua, perché è veramente tutta un'altra cosa, madonna, che roba, sto malissimo, ragazzi, sto malissimo, crisi mistica, madonna, è arrivato Carl, è vero, mi ero dimenticata, mi ero dimenticata di Carl, però non ha visto che è stato il padre, oh, madonna, che proprio, qui, qui diciamo che, Carl, compie la sua prima azione da adulto, oddio, sta puntando, tu pensi che stia puntando la pistola al padre, si è alzato, si è alzato, all'epoca non si impegnavano tanto per fare il make up da zombie, oddio, come cammina la zombie, Shane, oddio, come cammina, ha colpito Shane, minchia però ragazzino, vabbè che Carl ha una mia amicidiale, è proprio come suo padre, ha battuto lo Shane zombie, era lui che lo faceva infatti, porca miseria, no, c'ho i brividi ragazzi, c'ho i brividi, sto male, wow, qui adesso, dopo vi spiego che cosa succede, madonna, l'ha preso in testa Rick, c'è poco da fare, madonna, che espressioni, allora, qui abbiamo un fotogramma di Rick chinato su Shane, Carl che lo guarda, e in lontananza ragazzi, una delle prime orde di zombie della serie in assoluto, che sta arrivando alla fattoria, perché infatti la serie si concluderà con questa mandria gigantesca, non è proprio un'orda, diciamo una mini orda, che distruggerà la fattoria, questo episodio, è stato pazzesco, io da un 8.5, perché comunque, vabbè, sapete che sto sempre un po' bassa con, con i voti, qui abbiamo visto, la nuova evoluzione di Rick, ciò che lo porterà a essere effettivamente un leader, perché poi nel finale di stagione, appunto, lui confesserà quello che è successo, Lori si allontanerà da lui, proprio per questo, confesserà che sono tutti infetti, diciamo che la gente comincerà anche a perdere un po' di fiducia in Rick, perché gli ha nascosto questa cosa, però Rick a un certo punto dice giustamente, se pensate di farcela da soli, andate pure, mandatemi una cartolina, e nessuno si muove, perché sono consci che da soli, non ce la potrebbero fare, allora Rick dice, però, se decidete di restare, questa non sarà più una democrazia, e quindi, prende in mano effettivamente le regine del gruppo, e diventa l'effettivo leader, nella terza stagione, poi va bene, parleremo quando farò la reaction, del primo episodio, non del primo episodio, della, non mi ricordo adesso, della quarta o della quinta puntata della terza stagione, insomma, che sarà una puntata molto particolare, e lì poi farò sempre riassunto delle puntate precedenti, il confronto, Tarik e Shane è qualcosa di spettacolare, davvero, madonna, ho ancora i brividi, non riesco neanche ancora a esprimermi, sia per il raffreddore, sia perché ho ancora veramente, un batticuore della madosca, sto veramente male, abbiamo anche un Carl, che compie la sua prima azione, veramente da adulto, ovvero a battere lo Shane zombie, vediamo una Lori, che cerca, di rimettere le cose a posto, ma il suo discorso, ha fatto più danni che altro, possiamo dirci così, non è colpa sua, lei ha cercato, ha chiesto scuse, ha ringraziato effettivamente Shane, per tutto quello che ha fatto per lei, ma in questo caso, Shane ha pensato, questa è pronta di nuovo a darmela, quindi faccio fuori il maritolo, vabbè scherzo, c'è un'analisi dietro, ma se sto qua ad analizzare tutto, viene fuori un video di 40 minuti, quindi non è proprio il caso, puntata veramente, da pre finale di stagione, spettacolare, mi spiace che non farò la reaction, nel finale di stagione, ma non ce la faccio ragazzi, abbiamo appunto, come la morte di Day, l'ha segnato il gruppo, e come questo abbia anche, condizionato il modo di pensare, di tutti, Day credeva appunto, che ci fossero ancora, dove essersi ancora, della parvenza di giustizia, e di umanità, poi comunque, verrà smentito, nelle altre stagioni, perché veramente, certe persone in umanità, non sanno neanche più, che cosa sia, Avelisi Alpha, Alpha non è umana, diciamoci pure la verità, lei pensa di essere, un animale, pensa di essere un morto, e niente ragazzi, vabbè, io sono ancora, wow, cioè rivedere questo episodio, dopo quasi dieci anni, c'è qualcosa, le sensazioni non sono cambiate, ho cambiato magari, il modo di pensare, ho cambiato magari, il modo di vedere, le azioni dei personaggi, ma le emozioni, sono sempre le stesse, cioè c'è poco da fare, questi erano veramente, le puntate, che anche con pochi frame, riuscivano a torcerti le budella, poi il confronto tra Rick e Shane, alla fine, trassuda come ho detto, Romero, da tutti i pori, qualcosa di spettacolare, recuperatele, se potete guardatele in lingua originale, perché l'interpretazione di Andrew Lincoln, nella scena di, in cui uccide Shane, è qualcosa di unico, quindi veramente ragazzi, guardatele in lingua, con il sottotitolo in italiano, se le trovate ancora, perché vi assicuro, che è tutta altra cosa, non niente da dire, sul doppiaggio italiano, ma questa serie in lingua originale, rende, rende molto, molto di più, per quanto mi riguarda, a meno per quanto riguarda, l'interpretazione di Andrew Lincoln, bene, questa reaction, si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta, non so se questa, sarà l'ultima dell'anno, ma non credo, perché comunque, la prossima settimana, ecco vi annuncio già, che la prossima settimana, reaction, non ce ne saranno, perché è la settimana di Natale, quindi, anche materialmente, non riuscirei a girarle, poi sarà comunque, la settimana di Natale, quindi, il canale, proprio andrà in pausa, e tornerà poi, penso dal 20, penso che le reaction, torneranno dal 27, oppure con l'anno nuovo, comunque, vi tengo sempre, aggiornati, infatti, se volete, gli aggiornamenti, continui, sulle mie attività, seguitemi, soprattutto su Instagram, in descrizione, trovate tutti i miei social, Facebook, Twitter, e soprattutto Instagram, in cui, nelle stories, io tengo sempre aggiornata, sulle mie attività, perché qui, non ho la possibilità, di mettere i post, perché non ho ancora, mille iscritti, appena arriverò a mille iscritti, se ce la faccio, tra un paio d'anni, potrò mettere, anch'io, i post, per adesso non posso, quindi, se siete iscritti al canale, ma non mi seguite su Instagram, seguitemi, perché lì, nelle stories, tengo sempre, tutti aggiornati, sulle mie attività, in descrizione, trovate anche, la pagina Facebook, di Carol Italia, grazie ragazzi, grazie Carol, vi ricordo che appunto, queste reaction, sono in collaborazione con Carol, perché gli episodi, li ha scelti, quasi tutti lei, lei mi ha segnato gli episodi, io li ho approvati, li ho approvati praticamente, quasi tutti, quindi è come se li avesse scelti, tutti lei, quindi grazie, grazie, grazie a tutti, iscrivetevi al canale, al blog, se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella, per attivare le notitiche, e se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like, e condividetelo, vi mando, un bacione enorme, adesso vado a cercare, di respirare, e noi ci vediamo, alla prossima reaction, ne approfitto, e vi faccio già, tanti auguri di buon Natale, di buone feste, nel caso non seguite, le recensioni librose, o gli altri video, o gli altri video in generale, sul canale, magari seguite solo queste reaction, per chi segue soltanto, le reaction di The Walking Dead, vi auguro buone feste, e buon Natale, e che va a buon Natale, vi porti tante cose belle, belle, bellissime, vi mando, un bacione enorme, e ci vediamo, al prossimo video, alla prossima recensione, e alla prossima reaction, ciao a tutti, per, no ragazzi, neanche questo, troppo male, cosa mi è saltato in mente, che puntata, che confronto, quanta roba, quanta roba ragazzi, troppa roba,